Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'attesa. Io sono Andrea Menapace, il direttore della coalizione italiana Libertà Civili, che oggi ospita all'interno del suo nuovo progetto Open Migration, questo dibattito su come la televisione può contribuire a una migliore comprensione del fenomeno migratorio e della crisi dei rifugiati che è uno degli eventi epocali in questo momento. Due parole per introdurre e poi lasciare la parola ai nostri ospiti. Open Migration nasce dalla necessità di creare non solo in Italia ma a livello internazionale un dibattito più basato sui dati e sui fatti, su quello che è appunto uno degli eventi epocali del momento. Quindi noi siamo partiti a dicembre con questo progetto che inaspettatamente ha riscosso subito un grande successo e sulla scorta di questo tipo di progetto che è molto basato sulla narrazione e i dati, noi vogliamo fare in modo che tutti comprendano che dietro questi numeri che sentiamo spesso sui giornali o in televisione c'è una persona e quindi in questa dialettica fra dati e storie personali nasce un nostro progetto di storytelling che pur venendo da un'organizzazione non governativa ha un metodo che è assolutamente giornalistico, il nostro è un progetto informativo che vuole creare un dibattito più basato sui dati all'interno delle nostre società. Quindi chiunque che possa essere a favore o contro le migrazioni oppure a favore o contro l'accoglienza dei rifugiati deve partire da dei dati di fatto e da questo vogliamo partire anche noi. Quindi adesso partiamo con un brevissimo trailer del nostro progetto e poi lascio la parola a tre persone che hanno accettato il nostro invito a partecipare a questo dibattito, Barbara Serra di Al Jazeera, Francesca Pazzi di La Stampa e Corrado Formigli che conoscete tutti. Quindi è un po' quello che secondo noi manca in questo momento a livello mediatico non solo italiano è questo tipo di dibattito. Noi abbiamo riscosso un interesse che non ci aspettavamo, però vogliamo capire come mai un dibattito approfondito basato sui dati, sulla comprensione di fenomeni così complessi non passa mai in televisione o raramente passa in televisione. Quindi è da questa piccola provocazione che vogliamo partire. Grazie a tutti. Migrations have existed since the dawn of the human race. Historically, borders have given us a sense of identity, but these lines are not walls and therefore migratory flows shaped a political and cultural battlefield. Right now, more and more people are crossing the Mediterranean. 84% are asylum seekers, fleeing from wars or political persecutions in search of international protection. Due to the Dublin Regulation, they must seek asylum in their country of entry. The European Union proved unable to cope with this humanitarian crisis. data allows to challenge stereotypes and to influence the direction of public opinion and policy. OpenMigration.org. Understanding through data, advocating for dignity. Allora, buon… funziona sì. Buongiorno a tutti. Siamo già stati tutti quanti introdotti. Io sono Francesca Pasci, lavoro al desk esteri della stampa. Prima di cominciare a domandare a Corrado Formiglia e a Barbara Serra, quello che si può fare, cosa la televisione può fare, cosa può migliorare nel raccontare la nuova ondata di migranti. Ed è buffo che glielo chieda qualcuno della carta stampata, perché in realtà noi inseguiamo loro e loro inseguono i nuovi media nella ricerca di una narrativa che funzioni meglio e che possa essere più efficace. E allora dovendo fare io questo lavoro di chiedere a loro sono andata in questi giorni a chiedere anche organizzazioni come le organizzazioni internazionali dei migranti che cosa sbagliamo, che cosa potremmo migliorare come media in generale, quindi mettendoci tutti quanti insieme. E la prima cosa che viene fuori con la quale voglio cominciare è la questione dei numeri. La questione dei numeri che è importante, perché ovviamente quando parliamo di chi arriva, da dove arriva, come arriva, parliamo di numeri e parliamo di persone. Però i numeri raccontano anche una parte della verità. E quindi per esempio veniamo tutti da due giorni di nuovo grande allarmismo per l'Austria che ha messo in guardia dalle potenziali 300.000 persone in arrivo a premere sulla frontiera del Brennero. E guardando i dati degli anni passati e ascoltando con chi lavora con i migranti in questo momento, in realtà anche questo dato che cosa significa? Cioè la verità è che i numeri non è prevedibile stabilire la cifra di persone che possono arrivare. L'anno scorso per esempio nel 2015 c'erano stimate 500.000 persone in Libia e si pensava che potessero arrivare tutte quante. Invece ne sono arrivate 153.000. Nello stesso periodo, quindi nello stesso arco di tempo, nello stesso anno, non si pensava che la Grecia potesse diventare quello che è diventato, perché nell'anno precedente, nel 2014, ne erano arrivate 33.000. In Grecia invece sono arrivate un milione di persone. Quindi questo che cosa significa? Che 300.000 è un numero che dice tutto e dice niente. Si stima che queste sono le persone in Libia, ma per esempio chi lavora nei centri di raccolta dei migranti che partono soprattutto dall'Africa o che fanno un giro lungo e arrivano dal sud della Libia, quindi per esempio in Niger, facendo una specie di ricerche, di sondaggi su questi, l'80% in realtà non ha intenzione di arrivare da noi. E poi non solo, per esempio se noi pensiamo alla Libia, la possibilità di una guerra o la possibilità di una pace possono essere, pace è molto lenta e molto complicata, però possono essere due variabili difficili da leggere in termini di che numeri significheranno poi quando parliamo di arrivi. Allora, per esempio, di solito i trafficanti di uomini non lavorano bene con le guerre, cercano di tenersene alla larga perché non lavorano bene dove ci sono militari, dove ci sono checkpoint, quindi uno potrebbe immaginare che se la Libia è in questo momento un po' nel caos il flusso si ferma, invece in questi primi mesi del 2016 c'è stato un aumento del 90%, quindi che cosa significa? E se ci fosse una pace? Allora, questo per dire che i numeri vanno letti in un contesto, il milione di persone che sono arrivate in Grecia sono ovviamente un milione di persone e chi è stato nelle isole, a cominciare da Lesbo, che ormai è stata ribattezzata la Lampedusa greca, sa che cosa significhi. Però un milione di persone, parliamo di un milione di persone. Allora, le cifre vanno lette nel contesto e questo probabilmente è ancora più difficile da fare per la televisione perché sui giornali noi scriviamo, poi i riducibili che ci leggono hanno degli schemi. La televisione deve raccontare visi, persone e deve dare i numeri, per cui deve dare queste cifre che hanno una carica allarmista, soprattutto in un periodo come quello in cui stiamo vivendo, in cui la paura, la diffidenza, il sospetto, l'ansia sembra essere l'emozione trainante. Allora, io comincio da Corrado perché comincio con l'Italia e poi passo a Barbara perché così lei può darci anche la visione di quello che succede fuori e dall'estero. Allora, che cosa è più difficile raccontare in televisione quando si raccontano i migranti? Guarda, noi quest'anno abbiamo cominciato la stagione di Piazza Pulita con una scelta che è una scelta anche molto drastica. Abbiamo cambiato la scenografia e abbiamo costruito una scenografia nuova che partiva dal tema dei profughi. C'è forse un'immagine che ho fatto mandare che ricorda appunto la scenografia principale, lo sfondo principale del nostro studio, è un quarto stato, eccolo qua. Questo è lo studio di Piazza Pulita, tra l'altro questa è una puntata in cui c'era Matteo Salvini, quindi era interessante proprio la contrapposizione tra l'immagine del leader diciamo populista per eccellenza che ha costruito la sua carriera politica sul tema del contrasto all'immigrazione e all'arrivo dei profughi e questo quarto stato che è chiaramente una, abbiamo ridipinto il quarto stato di Piazza da Volpedo mettendo però nel ruolo diciamo dei braccianti di questo quarto stato i nuovi profughi, questi sono siriani, queste sono immagini prese dalla realtà, sono prese dalla realtà, sono scene che sono state ritratte, diciamo prese dai reportage e poi ridipinte da Francesca Montinaro, questo per dire che cosa? Che il tema dei profughi, l'importanza di questo tema doveva essere sempre presente nella nostra trasmissione insieme al tavolo che in qualche modo il tavolo voleva significare il tentativo di razionalizzare le paure e di mettere appunto sul tavolo i numeri, i fatti per contrastare la paura dilagante dell'invasione. Invasione è la parola che noi cerchiamo di non usare mai perché invasione evoca un fenomeno necessariamente negativo e che trascura drasticamente le cause, che non va a guardare che cosa sta succedendo a monte di questo esodo di persone e che dà già un giudizio negativo, quindi noi abbiamo scelto di raccontare un fenomeno che consideriamo innanzitutto un fenomeno permanente, cioè qualcosa da cui non si tornerà indietro. Questo mondo che ci viene incontro è un mondo che però rivendica dei diritti ma che può portarci anche molte cose positive, che può anche portare per esempio all'Europa una nuova linfa, dare un nuovo futuro al nostro vecchio continente e quindi questa diciamo è l'impostazione di base. Per fare tutto questo naturalmente tu devi raccontare questo fenomeno in modo approfondito e andando a vedere quelle che sono le cause. Quello che io ho notato nella televisione italiana è che tendenzialmente si racconta il fenomeno migratorio solo quando ce l'hai sul pianerottolo di casa, quindi dalla frontiera italiana che sia Gorizia o che sia Lampedusa o che sia Ventimiglia o che sia il Brennero fino ai nostri condomini. Il caso eclatante è quello dei siriani. Esattamente, il caso eclatante è il caso dei siriani, cioè noi vediamo queste persone che arrivano e ci poniamo il problema di come fare a rimandarle a casa. Per molti mesi abbiamo sentito questa frase anche da politici importanti, aiutiamo i profughi a casa loro. Questa frase è una frase che non ha senso, non ha senso in particolare per i siriani, non ha senso nell'immediato, nel senso che è una frase pronunciata da persone che non conoscevano evidentemente i punti di partenza dei profughi, non erano mai stati a Cobane, non erano mai stati a Oms, non erano stati ad Aleppo, non erano stati nelle città dove non era possibile in nessun modo tornare o costituire delle condizioni di base di sicurezza per poter tornare a vivere. Quando sono stato a Cobane il 4 di dicembre del 2014 sono rimasto anch'io scioccato, non solo dalla violenza di quella guerra che ho raccontato, ma dal fatto che Cobane era una città completamente rasa al suolo. Quest'anno sono andato a Singjar e Singjar è una città completamente rasa al suolo, parliamo di città con alcune centinaia di migliaia di abitanti, sono luoghi dove non si può tornare, un'economia completamente distrutta, è evidente che le persone che sono fuggite da lì piuttosto che tornare dai luoghi da cui sono scappate moriranno, moriranno da noi, moriranno in mare, moriranno sui valichi, moriranno sulla rutta balcanica, si ammazzeranno piuttosto che tornare da dove scappano e questo credo sia stato il primo sforzo che abbiamo cercato di fare, raccontare le cause di questo esodo, evitare la parola invasione e io ho una rifugio molto dal pedagogismo, io detesto il pedagogismo televisivo, le persone che ti dicono la televisione deve educare buoni sentimenti, la televisione è la televisione, quindi naturalmente deve fare i conti con il mercato, con chi ti segue, con inserzionisti pubblicitari, quindi io non voglio fare un discorso da mammoletta, so benissimo che alcune cose fanno più ascolto di altre e questo è il tema, tuttavia di fronte a quello che sta accadendo, che non ha precedenti nella storia del nostro continente, mi sono posto e ci siamo posti come gruppo autorale un tema di etica giornalistica, possiamo raccontare un fenomeno epocale, mostruoso, immenso come questo senza raccontare la sofferenza di queste persone e i luoghi da cui arrivano? Perché tu ci stai dicendo che l'allermismo fa più ascolto le scifre? Assolutamente di sì, far vedere i profughi sdraiati che magari in condizioni assurde nelle nostre stazioni o allarmare sul rischio di delinquenza, che inevitabilmente arriva quando ti arrivano masse di persone sradicate nel nostro territorio, puntare solo su quello vuol dire fare un'operazione giornalistica indecente perché taglia via un'intera serie di problemi, un'intera serie di complessità che vanno raccontate a prescindere da quella che sarà la reazione del pubblico immediata e ve lo dico perché io sono abituato a guardare i grafici dei nostri reportage, quando tu fai vedere un reportage, per esempio la rotta balcanica, la nostra Valentina Petrini ha fatto un paio di reportage molto belli raccontando i profughi, essendo profuga anche lei, nel senso stando con loro, lei si è finta moglie di un siriano, ha attraversato le frontiere, i fiumi con loro, ha fatto un paio di reportage secondo me di valore internazionale, bellissimo, qui si vedeva la sofferenza delle persone ma soprattutto capivamo che molte delle persone che scappano sono persone che vengono dalla media, buona borghesia, professori universitari, insegnanti, commercianti, persone che hanno un'onestà e una solidità, ecco questi servizi fanno meno ascolto, e tu lo vedi minuto per minuto, fanno molto meno ascolto dei servizi che tu fai per esempio sulle rapine degli extracomunitari nelle periferie delle nostre città, quando tu fai vedere lo scontro nelle nostre città, il pubblico si ferma prima perché quella roba li coinvolge maggiormente. In Italia questo fenomeno è più macroscopico secondo me che all'estero, poi sentiremo Barbara, perché ovviamente il nostro interesse scatta quando entrano nel nostro territorio e devo dire che il nostro sforzo deve essere quello di fargli capire che raccontare quello che c'è fuori, fuori dai nostri confini, ci riguarda ugualmente e completamente. A Barbara Serra vorrei chiedere innanzitutto, partire dall'ultima riflessione che faceva Corrado sull'ascolto, sull'audience, cioè il rapporto tra, tra virgolette, analisi più approfondita del fenomeno e picco degli ascolti, picco in basso degli ascolti, se c'è anche da voi. Allora, qui mi fa pensare più all'esempio della BBC che non magari Algezere English che è un po' diverso e di solito la BBC e di solito i media inglesi, forse perché loro avevano l'impero, sono più aperti, parlano inglese, di solito sono più attenti agli esteri, però io avevo notato negli anni prima, quando sono iniziati gli sbarchi a Lampedusa, che sì se ne parlava in Inghilterra, ma non più di tanto, e poi ovviamente si è anche parlato della crisi di migrazione, però è solo quando è successo il disastro a Calais, non so se voi avete visto le immagini della cosiddetta giungla, perciò Calais è il porto tra la Francia e l'Inghilterra, vicino al treno l'Eurotunnel, dove si erano congregate in questo campo profughi la giungla, insomma messo un po' su così, migliaia di persone che cercavano giorno dopo giorno di entrare nel tunnel, perciò anche in Inghilterra, magari paese un pochino più aperto internazionalmente, alla fine credo che sia natura umana, che a noi ci colpiscono le cose quando pensiamo che è veramente davanti alla nostra porta di casa e può avere un impatto diretto sulla nostra vita, perciò anche in Inghilterra è un po' così, io lavoro per un canale che si chiama Algezere English, Algezere è una famiglia di canali, un po' come Sky, c'è il canale arabo, vari canali arabi, canali di sport, Algezere English ha dieci anni ed è il canale internazionale, perciò siamo in inglese, mirati a un pubblico internazionale, perché la maggior parte del pubblico arabo guarda Algezere araba e il mio grande lusso è che prima di tutto ho un'audience interessata, perciò la mia audience può venire da tutte le parti, il mio idraulico ad esempio, non è neanche un canale per intellettuali che è molto interessato, chiunque sia interessato guarda, perciò questo già è un grande vantaggio, perché noi sappiamo che la nostra audience è interessata e anche essendo un audience internazionale io non devo pensare quando conduco il Tg a specificamente le paure di un paese e questo vuol dire che posso dare un'impronta internazionale, perché vi dico la grande impressione da parte di Algezere o da molta gente che vive nel mondo arabo, parlando di statistiche numeri, credo che ci siano 8 milioni di persone internamente spiazzate in Siria, più di 4 milioni fuori, in Turchia non sono arrivati ai 3 milioni, ma quasi, la Turchia è comunque un paese di 75 mila persone, in Giordania c'è quasi milioni di persone, in Libano, che il Libano è grande così e sono 4 milioni, una persona su 4 è un rifugiato dalla Sile, e il Libano comunque aveva già una grande popolazione di rifugiati palestinesi che sono venuti dalla creazione di Israele, perciò molto spesso mi sento dire, da europea che lavora dal Giosira, da colleghi o amici arabi, frasi del tipo, l'Europa di 400-450 milioni insomma su quelli, sono arrivati un milione e collettivamente l'Europa sta avendo un esaurimento nervoso, il Libano ha un quarto della propria popolazione e per tutti i problemi che sta avendo, perché si sta quasi sgretolando la cultura e la società libanese, perché non riescono a sostenere ovviamente così tante persone, però lo stanno gestendo in una maniera diversa e questo insomma crea una grande differenza. E poi si torna anche al contesto, la frase che invece fa impazzire me quando sento i talk show italiani è bisogna risolvere la situazione in Siria, cioè qualcuno ti dice per risolvere l'immigrazione bisogna risolvere la situazione in Siria, se qualcuno ha delle idee o qualche politico, digli di chiamarmi perché vorrei sapere la situazione in Siria perché ora è immersa. Abbiamo sentito di tutti i colori su questo, ma anche con cambiamenti incredibili, dai stessi politici cambiano idea ogni mese a seconda di come tira l'aria, bombardiamo, non bombardiamo, non ce ne dobbiamo interessare, lasciamoli ammazzare tra di loro. E poi il non leggere i processi fa sì che adesso la situazione in Siria è emersa, ma la situazione in Yemen emergerà ed è simile e soprattutto i flussi migratori che vengono dall'Africa non sono legati a questo, c'è un enorme aumento di nigeriani. O l'Afghanistan perché abbiamo detto no ai rifugiati dell'Afghanistan, è una situazione ancora lì. Io credo che quando la gente guardi la televisione, perché noi insomma abbiamo la passione, no? E la gente anche quando mi parla di Al-Gesira vuole sapere qual è la soluzione e credo che la vera realtà, o almeno io non ce l'ho, non c'è una vera soluzione, ci sono varie soluzioni per cercare di gestire un problema. Abbiamo visto il nuovo accordo tra la Turchia e la comunità europea che tutti stanno criticando, però almeno è una specie di accordo e ora è da vedere bene cosa succederà. Però credo che il vero problema è che noi parliamo, cioè alla fine di un programma, alla fine di un'intervista vuoi almeno dare, non so, uno speraglio di speranza o qualcosa o cercare di mostrare quale sarebbero le azioni giuste e credo che quella è la realtà, che in questo momento nessuno, da nessuna delle due parti del Mediterraneo sa veramente quale siano le cose giuste da fare? Perché anche noi ad Algesira comunque parliamo con, non abbiamo parlato con Salvini, ma abbiamo parlato con i rappresentanti della Lega, di tutti gli altri partiti in Europa che sono contro immigrazione, o della gente normale che comunque ha paura di questi flussi, di gente che non conosce, che spesso non capisce, perciò è quello il bilancio da fare spesso. Allora adesso ho una domanda che vale per tutti e due, perché appunto mi è stata fatta in questi giorni che pensando a questo incontro sono andata a sentire un po' di organizzazioni che lavorano con i migranti, quindi partiamo da Corrado e poi anche a Barbara, allora l'uso dei bambini, le immagini dei bambini e lo dico perché certamente così come nel narrare il fenomeno migratorio ci sono delle tappe importanti per tutti i media, la prima è quella del naufragio, quello del 3 ottobre del 2013, quando morirono 366 persone a Lampedusa, un'altra a noi più vicina è quella del bambino Aylan Kurdi sulla spiaggia turca, che è grosso modo quando in quella estate ci siamo accorti che i siriani erano, diciamo, di quello che stava succedendo in Siria e di come ormai fosse travolta interamente la classe media, quindi questi bambini che arrivavano che potevano essere i nostri figli, questo è quello che tutti quanti hanno notato e rilevato nonostante a quel punto la Siria fosse già in guerra da quattro anni. Ecco, allora mi è stata posta questa domanda, a me che sono sui giornali, chiaramente le televisioni lo fanno molto, i bambini, è ovvio che tutti quanti, cioè il bambino che è nella tenda, non solo Aylan Kurdi, poverino, ma anche quelli che soffrono e ci mancherebbe. Però non rischia anche di diventare un po' strumentale e vi giro la domanda, mi hanno detto giustamente che moltissimi sono gli anziani che scappano e per loro paradossalmente la difficoltà è ancora più forte che dei bambini, che quando tu sei in alto mare e provi a soccorrere da un gommone una signora anziana, pesante, che a corpo morto non si fa tirare su, oppure una storia che ho fatto poco tempo fa, in Giordania in questo momento le famiglie dei siriani che sono lì avendo capito che l'unica scianza è il mare e che il naufragio è una possibilità molto possibile, stanno prendendo lezioni di nuoto e lezioni di nuoto non i bambini per cui è naturale, ma persone di 70 anni che a quel punto avevano dato la loro vita per... perché i bambini? C'è il rischio di un uso che diventa anche... Il rischio, diciamo, il rischio di strumentalizzare, ovviamente c'è sempre televisione perché la televisione è un'immagine, le immagini sono più potenti delle parole per cui è chiaro che la strumentalizzazione, il rischio c'è sempre e credo che stia un po' alla sapienza di chi usa le immagini, fare in modo di non eccedere, però la presenza dei bambini è mostrare i bambini è molto importante, ti dico perché secondo me mostrare i bambini è particolarmente significativo, per due ragioni, la prima ragione è perché uno degli elementi di propaganda politica più utilizzati dai leader xenofobi è che in realtà chi si sposta sono maschi adulti che lasciano le famiglie nella guerra e scappano da soli e questo sarebbe la prova che non hanno nessuna intenzione di ricominciare una nuova vita e di integrarsi ma che vogliono venire a rubare a casa nostra cercando fortuna economica. Questo è un argomento che è stato speso molto spesso nella propaganda politica e mostrare i bambini mostra il contrario. c'è nella presenza dei bambini, nel far vedere delle famiglie in cui ci sono i bambini e le donne ma soprattutto i bambini, secondo me la prova che la maggior parte dell'immigrazione che noi raccontiamo, l'immigrazione di coloro che scappano dalla guerra, in realtà contiene in sé la ricerca di un futuro migliore. Un uomo che porta i suoi bambini attraverso il mare o attraverso mille pericoli è sicuramente un uomo che ha intenzione di ricominciare, cioè di investire nel futuro del paese in cui arriverà. Se io vedo arrivare un padre con dei bambini nel mio paese, penso che quel padre sarà animato dalle migliori intenzioni, dalle migliori energie per dare un futuro a quei bambini, che si ha rischiato la loro vita, l'ha rischiato è perché ha intenzione e crede nell'Europa, crede nella possibilità che il suo approdo gli darà un futuro, gli darà una vita migliore. Quindi mostrare quei bambini secondo me è un segno in qualche maniera per disinnescare le paure che noi abbiamo dell'invasione dei delinquenti. Una famiglia che porta i bambini è una famiglia che sfida il futuro e che crede che ci sarà un futuro e questo secondo me è molto importante. Poi naturalmente le strumentalizzazioni sono nell'insistenza, nell'immagine, nell'insistenza nel ritrarre la sofferenza, nell'utilizzo a volte stupido o meschino, grottesco delle musiche, del montaggio. Naturalmente questo ha a che fare con la sensibilità giornalistica degli autori, però secondo me far vedere i bambini invece è molto importante. Comunque ricordiamoci che l'immagine di un bambino morto, Aylan, che scappava da Kobane appunto, ha in qualche modo cambiato la storia, ha spinto Angela Merkel a un passo importantissimo che ha cambiato proprio l'agenda politica europea. Io credo specificamente nel caso di Aylan Kurdi, era tanto ovviamente bambino, ma è l'immagine della morte a cui noi non siamo abituati sui network internazionali. Dal Josire English noi dobbiamo seguire molte delle regole che tutti i network devono seguire in Europa. Il canale arabo è molto più grafico, perciò loro direbbero, con queste regole che voi avete dove non si possono vedere cadaveri veramente o bisogna sempre controllare che immagini sono troppo forti, voi così sanitizzate la guerra. E perciò credo che il grande impatto di Aylan Kurdi, prima di tutto, era per come era messo si poteva ancora, perché non vedevi il viso del bimbo morto, perciò era un'immagine che colpiva della morte, che ovviamente era un colpo allo stomaco, però che comunque si poteva ancora utilizzare. Certi network, certi giornali hanno comunque scelto di non farlo. Però io credo che quello che ha colpito è che veramente allora tanta gente in Europa ha realizzato, cosa voglio dire rischiare la vita e cosa vuol dire quando noi diamo altre statistiche tipo in Siria di non so quanti migliaia di bambini morti, cosa in effetti questo vuole dire? E la televisione in Europa, giustamente o no, perché è un altro pubblico e sanitizza questo aspetto molto di più di ad esempio Al Jazeera, e qui parlo specificamente del canale arabo. Allora, nel frattempo, prima di passare all'altra domanda, siccome noi possiamo stare fino alle tre e un quarto, io vi direi che se qualcuno ha delle domande nel pubblico, invece di arrivare poi negli ultimi minuti che ci mandano via, se alzate una mano diventa anche un dialogo, quindi se qualcuno ha delle domande già adesso, facciamo così che interrompiamo perché altrimenti si trovano poi che è finita. Allora, non so se c'è un microfono, eccolo. Sì, salve. Io volevo fare in merito all'immigrazione, la crisi che sta vivendo l'Europa, soprattutto un riferimento a quella che è la politica, perché alla fine, sì, parliamo di populismo, ma questo populismo in Europa sta prendendo sempre più piega a nessun paese escluso e sembra quasi che il progetto di integrazione europea stia facendo grandi passi indietro. Io vorrei un vostro parere su questo, proprio perché anche nelle elezioni, anche la stessa Merkel a livello regionale ha avuto delle sconfitte, delle perdite, quindi sembra un po' questa politica di integrazione non pagare e stanno immergendo ovviamente tante barriere all'interno dell'Europa. Grazie. No, ma io semplicemente a chi dice che i dati danno ragione, diciamo, ai sacerdoti della paura, no? I dati elettorali soffiano a favore dei grandi partiti populisti e xenofobi. È un dato di fatto quello che sta accadendo, però io credo che questo abbia anche molto a che fare con il disordine, cioè il modo di far crescere la xenofobia è avere una gestione disorganizzata e disordinata dei grandi flussi migratori. Questo secondo me vale per la maggior parte dei paesi, ora sulla Germania non lo so, sicuramente vale per l'Italia, cioè non c'è peggiore fabbrica delle paure di uno Stato in cui dai l'impressione di non sapere esattamente che cosa fare, in cui non hai il controllo dei numeri, in cui le leggi non funzionano, in cui i meccanismi non sono ordinati e ben organizzati. Quindi a mio parere per battere questa tendenza bisogna semplicemente avere delle leggi più funzionali, un'organizzazione migliore e non siamo probabilmente abituati a fronteggiare questo fenomeno, ancora non siamo abituati a fronteggiare questo fenomeno in tempi così rapidi soprattutto. Quindi la prima risposta che mi viene a dire è facciamo delle leggi migliori, facciamo funzionare meglio i meccanismi dell'accoglienza, non sicuramente rimandiamoli tutti indietro perché non credo che sia il modo di rispondere al crescere appunto di questo vento populista, impariamo ad accoglierli in modo più ordinato. Nella domanda interessante hai detto Europa e credo che quello che abbiamo visto sono le enormi differenze culturali fra l'Europa, se non mi sbaglio in Slovacchia hanno avuto un'elezione un paio di settimane fa e prima delle elezioni il primo ministro ha proprio dichiarato qui non entreranno più musulmani, perciò non immigrati, non siriani, ma proprio musulmani. Prima delle elezioni credo lui volesse insomma fare meglio l'elezione e invece nelle elezioni comunque sono entrati degli esponenti di quello che noi potremmo definire estrema destra. Perciò credo che hai l'Europa dell'est che sicuramente non è abituata al tipo di integrazione e multiculturalismo che invece vedi in maniera che ha più o meno successo in paesi come Francia e soprattutto il Regno Unito, perciò ci sono problemi diversi in parte del mondo diverso, il dibattito sull'immigrazione ad esempio nel Regno Unito è molto diverso, credo anche perché loro comunque hanno la manica che li protegge, perciò è diverso, loro hanno altri problemi di immigrazione, c'è Brexit tra poco e lì è una cosa completamente diversa perché con gli europei non puoi dire di no, perciò credo che sì ovviamente stiamo vedendo questa politica ma perché la gente ha paura, perché non capisce, perché nessuno può veramente offrire una specie di soluzione o una promessa che le cose miglioriranno, perciò un milione su 450 milioni non è tanto, ma quando diventano due, quando diventano tre e comunque c'è da affrontare una realtà che l'integrazione è molto difficile, per me l'Inghilterra ora è un paese molto integrato, multiculturale, lo adoro ma ci hanno messo decenni perché loro i primi flussi immigratori che venivano dall'impero li hanno avuti più o meno nel dopoguerra e anche lì hanno avuto problemi per decenni, perciò non è una situazione facile, sicuramente certe cose che io ho sentito soprattutto dall'Europa dell'Est fanno inorridire. Prima di passare all'altra domanda, anche io dico brevemente, io ho l'impressione che a me più dei migranti, delle ondate dei migranti, con tutti i cambiamenti culturali che comportano, perché sarebbe ipocrita non dirlo, cioè è chiaro che mescolarci comporta delle sfide, comporta anche delle difficoltà iniziali, ma più di questo mi fa paura la paura che ne abbiamo e ho veramente questa, essendo io proprio la generazione Erasmus tutto avrei pensato, meno che mi sarei trovata a ragionare a 44 anni della possibilità che l'Europa si suicidi da sola, non perché qualcuno ci attacca ma perché si suicida da sola e mi viene sempre da pensare, lavorando con il Mediterraneo, che noi dimentichiamo come ancora per tutti i paesi che ci circondano nella sponda sud e nella sponda est del Mediterraneo, noi rappresentiamo un modello, cioè un modello che anche è riuscito a tenere a una crisi economica come quella del 2008 e che se non avesse avuto strutture di welfare anche abbastanza integrato avrebbe probabilmente collassato, rappresentiamo un modello che vorrebbe forse essere il sogno europeo, ma che sembra che non ci crediamo più neanche noi molto e quindi questa è la cosa che mi mette veramente paura, più di delle sfide che possono arrivare da fuori. Invece torno a voi, faccio come prima perché comunque è la stessa domanda ed è interessante vederla da due punti di vista. Quando parlavo prima dei bambini e dell'utilizzo dei bambini lo dicevo per arrivare a quest'altra domanda, a quelli che possono essere dei limiti deontologici che uno si mette o a come utilizzare l'immagine nel narrare comunque la vita di persone che si mettono in moto. Allora quando si parla di, per esempio per quanto riguarda i giornali, ci sono delle tappe in cui si è ragionato su come utilizzare un linguaggio più adeguato, non per parlare genericamente e banalmente di politicamente corretto, però le parole e il linguaggio sono veicoli di moltiplicazione di ansia, quindi uscendo dalla paranoia del politicamente corretto è importante ragionarci. Allora per esempio per la carta stampata, vale anche per i media ovviamente, però un momento importante è stata la carta di Roma che nasce dopo la strage di Erba e quindi cercando di dare anche una regolamentazione, la strage di Erba era, parliamo del 2002-2003, no 2008, 2007-2008 e quando appunto ci fu questa strage ad Erba fu uccisa la mamma, il bambino, la suocera e la prima cosa che si fece fu dare la colpa al marito della donna Azuz Marzouk associando il delitto, lo sgozzamento al fatto che fosse tunisino e quant'altro. Ovviamente la cosa poi non era andata così, erano stati vicini di casa e da lì si cominciò a ragionare. Quindi una prima tappa importante è quella, una seconda nominavo prima è quella del 2013, quindi quando con il naufragio di tutte quelle persone si è cominciato a ragionare, ad evitare di più le parole per esempio illegale e utilizzare il regolare, sembra banale ma non lo è, e poi Aylan Kurdi di cui abbiamo parlato, per cui per esempio noi ci si interroga, è ovvio che in quel momento Aylan Kurdi ha aperto la finestra su Galassia Siria che era già lì da quattro anni e mezzo, però al tempo stesso questo, cioè personalizzare troppo un fenomeno che in realtà è estremamente variegato, comporta dei rischi su cui noi ci interroghiamo, cioè per esempio adesso quando io poi sono andata in seguito anche dopo Colonia e dopo i fatti di Colonia si è scatenata una guerra tra poveri, tutti pretendono di essere siriani perché hanno capito che in questo momento loro possono avere un vantaggio maggiore rispetto a uno che arriva magari dalla Nigeria che è un migrante economico ma che scappa da una situazione che è pari a quella della guerra. Ecco, per la televisione come funziona con le immagini? Qual è, ci sono dei momenti in cui che sono stati importanti e che hanno poi determinato come utilizzare dopo queste cose, dei freni? Intanto contano anche le parole in televisione, non soltanto le immagini, per esempio una distinzione secondo me importante che bisogna fare, noi non parliamo mai di islamici quando parliamo di terroristi ma parliamo eventualmente di islamisti, usiamo la parola come convenzione islamisti per dire i fondamentalisti islamici, diciamo che gli jihadisti, quindi per esempio questo è un fatto importantissimo che secondo me non è una sottigliezza di politicamente corretto, gli islamici sono tutti coloro che appartengono alla religione musulmana, gli islamisti sono i fondamentalisti islamici, questo per esempio è un tema che a me sta molto a cuore. Sulle immagini ancora, io sono contro le regolamentazioni che arrivano dall'esterno, sono sempre per le autoregolamentazioni, sono perché i giornalisti abbiano un loro codice ideontologico che loro stessi devono stabilire, però vorrei anche dire che noi stiamo vivendo una guerra, che è una guerra naturalmente molto diversa da quelle precedenti ma siamo dentro una guerra, una guerra globale e dentro questa guerra c'è anche, uno degli effetti della guerra è questo esodo epocale che sta avvenendo e non dico quello sulle nostre coste, dell'esodo anche appunto come ricordava giustamente Barbara, verso il Libano, la Giordania, la Turchia, milioni e milioni di persone fino al collasso, al rischio di collasso di questi stati e per raccontare una guerra bisogna raccontarla con la crudezza delle immagini, senza nascondere niente, senza nascondere niente, è un tema che io difenderò fino a che vivo e fino a che faccio questo mestiere, è un tema che mi si è riproposto recentemente non per quanto riguarda le immagini dei migranti, dei bambini, ma per quanto riguarda l'uccisione degli ostaggi italiani in Libia, siamo stati duramente criticati perché abbiamo mostrato i corpi degli ostaggi uccisi, ma in guerra ci sono i morti e in Libia c'è una guerra e noi la dobbiamo mostrare, naturalmente copriamo il volto, lo bleriamo come si dice in termine tecnico, ma in certi casi, non sempre, ma in certi casi noi in quel caso abbiamo mostrato il luogo dove sono stati uccisi due ostaggi e abbiamo fatto una ricostruzione di questo giallo, dell'uccisione dei due ostaggi italiani ed era funzionale la ricostruzione di questo scontro a fuoco, mostrare dove erano posizionati i corpi, siamo stati criticati perché abbiamo mostrato i corpi, cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto nasconderli e se muore un bambino sulla spiaggia di Smirne dovremmo non mostrarlo perché questo ci disturba mentre siamo a cena all'ora del telegiornale? Ma stiamo scherzando? Ma comunque ricordiamoci che Aylan che è morto sulla spiaggia di Smirne se non mi sbaglio, anche quello ha aperto il grande tema del ruolo della Turchia, cioè è dopo la morte di Aylan che noi ci siamo iniziati a domandare che cosa stesse accadendo sulle coste turche, che cosa stava accadendo sulle spiagge dei turisti in Turchia, è da quel momento che noi ci siamo resi conto che ci sono bambini e esseri umani che muoiono su una rotta di mare in cui ci sono i gommoni da una parte che viaggiano pieni di disperati che rischiano di affogare e accanto gli passano i traghetti vuoti dove si paga il biglietto e invece di mettere quei disgraziati sul traghetto il traghetto gli passa a fianco e loro muoiono in quel mare. È Aylan che ci ha fatto scattare giornalisticamente la lampadina di andare a vedere che cosa c'era dietro quel traffico di immigrati, perché qual era il ruolo della Turchia. La Turchia accetta in maniera passiva che ci siano vere e proprie fabbriche di passaporti falsi a Istanbul. La Turchia ci ricatta sul traffico dei migranti, così come faceva Gheddafi in Libia ai tempi appunto in cui c'era il dittatore libico. Ecco quindi io penso che certe immagini aprano dei veri e propri filoni giornalistici e siano quindi nel dolore assolutamente funzionali al nostro lavoro. Quindi da questo punto di vista ripeto, io non sono pronto ad accettare nessun tipo di regola o di codice che mi arrivi dall'esterno. Il codice me lo do da solo e poi ne risponderò davanti al pubblico e davanti alle persone che eventualmente mi possono criticare. E comunque noi siamo in guerra e in guerra le immagini servono a formare anche una coscienza, le coscienze di chi guarda. Sono d'accordo con tutto quello che dice Corrado. Credo che ovviamente la difficoltà è che per parlare di queste cose, come sappiamo noi in televisione, ci vogliono tanti soldi perché per ovviamente parlare di questo tu dovresti avere in Europa, corrispondente ai domeni, poi vedere chi altro ha chiuso la frontiera, dovreste avere un corrispondente in Grecia, all'Esbos, l'altro a Tichili dalla parte turca, cercare di parlare con il governo turco per capire esattamente cosa sta succedendo a questi migranti, avere posizione negli altri campi profughi in Siria. Tutto questo è estremamente costoso, perciò sinceramente a volte certo del lavoro migliore che so che stiamo parlando di televisione, ma la BBC Radio ha fatto una cosa fantastica un paio di mesi fa dove sono riusciti, perché la radio è più facile e la noti meno, a seguire proprio una famiglia di profughi appena usciti dalla Siria in Turchia, poi fino a che sono arrivati in Germania e poi tutti i problemi che hanno affrontato in Germania. Io credo che la sfida dei giornalisti ora, soprattutto con questo nuovo accordo tra l'Europa e la Turchia di cui stiamo parlando tutti, è veramente di capire cosa sta succedendo e come giornalisti europei o occidentali dobbiamo continuare a seguire cosa sta succedendo ai profughi una volta che vengono rimandati in Turchia, perché da quanto sto sentendo dai corrispondenti di Al-Gesira, il governo turco non sta dando molti dettagli, è molto difficile avvicinarsi ai profughi rimandati in Turchia e anche in Grecia, avevamo dei corrispondenti fuori da un centro dove tengono tutti i profughi che poi vogliono rispedire in Turchia ed è molto difficile avvicinarsi di nuovo e parlare veramente per capire cosa sta succedendo e sicuramente almeno nell'ultima settimana credo che abbiano rispedito 350 profughi indietro in Turchia per la maggior parte pakistani, ma nella stessa settimana sono arrivati 500, perciò il vero quello che l'Europa voleva che questo fosse un deterrente fino a ora non sembra, però è da vedere ed è da controllare, cosa che è sempre più difficile per i giornalisti. Sì, allora io controllo intanto se c'è qualcuno che ha, c'è una domanda laggiù, scusate io ve lo chiedo se qualcuno anche mentre loro stanno parlando alza la mano, ecco c'è un'altra là, almeno utilizziamo il tempo prima che sia. Volevo chiedere da cosa nasce la paura dei migranti e se secondo voi la televisione aumenta questa paura. Grazie e complimenti per il panel. Quanto è difficile per questa Europa far capire quei dati e quel messaggio che voi prima avete giustamente ricordato, ovvero che altri paesi confinanti con la Siria hanno fatto di più rispetto all'Europa in tema di accoglienza dei rifugiati siani. Perché è così difficile far passare questo messaggio? Grazie. Allora, paura dei migranti. Te lo dico da persona che vive da straniera da quando aveva otto anni. Un po' in natura umana, cioè se tu hai davanti a un italiano, più o meno dall'accento, da come è vestito, riesci a capire un po'. Io credo che la paura, non so se... Sì, quando hai davanti uno straniero non riesci a leggere, qualsiasi straniero, che sia norvegese, turco o quel che è, non riesci a leggerlo nella stessa maniera in cui tu leggi il tuo popolo, perché non ha gli stessi segnali, non ha gli stessi parametri. Perciò credo che un po' di paura di quello che è diverso è un po' naturale. Poi dipende dove lo porti e sicuramente io credo che ci sia stata una demonizzazione del mondo islamico. Credo che noi non capiamo questo mondo, che sicuramente è molto complesso, ma che noi vediamo molto in bianco e nero. Perciò io credo che comunque questa crisi dell'immigrazione è molto legata anche a che sia un'immigrazione che viene dal mondo arabo, dal mondo islamico, legata giustamente o no, perché gli attacchi che abbiamo visto in Europa non erano legati all'immigrazione, ma comunque nella nostra mentalità noi pensiamo, beh, c'è tutta questa gente che noi non capiamo che sta arrivando, anche se solo l'1% vuole farci del male, allora noi dobbiamo proteggerci. Perciò io credo che quella è un po' la base della paura. Cosa può fare la televisione? Beh, la televisione può iniziare a spiegare questo mondo molto complesso, a spiegare o cercare di spiegare le complessità dietro quello che noi chiamiamo terrorismo islamista, anche se per me uno che va con ISIS in Iraq è completamente diverso da un ragazzo belgio che cerca di uccidere altre persone per ragioni chiare solo a lui. Perciò, diciamo, è complicata. Poi l'altra domanda era, scusa, dell'Europa? Perché è difficile capire che... La Turchia, la Giordania accettano tanta gente e noi... Beh, anche loro non è che sono perfetti, eh? Cioè in Giordania non hanno... non danno permesse di lavoro, perciò hai tanta gente... cioè non è che c'è questa idea... nel mondo arabo sicuramente i paesi vicini stanno accogliendo e tanto... e i numeri lo dicono. Però, ad esempio, tu non hai permesso di lavoro, perciò se tu sei un emigrato in Giordania, un rifugiato, sei lì da anni, un paio di... no, un anno fa, credo, prima che scoppiasse veramente il vero esodo, a un certo punto una delle agenzie delle Nazioni Unite non aveva più soldi per sfamare la gente, perciò stava dando solo da mangiare, credo, ai bambini, agli anziani, alle donne incinte e soprattutto agli uomini. Allora loro dicevano noi non possiamo più darvi da mangiare perché non abbiamo più soldi. Allora, tanti di quegli uomini che magari erano già lì da anni, la guerra in Siria continuava da anni, non c'è una fine in vista, perciò allora a quel punto loro decidono, beh, tanto vale, allora proviamo ad andare in Europa perché lì forse avremo una vita. Perciò, per quanto i paesi che circondano la Siria stanno aiutando moltissimo, non è certo un paradiso, c'è il razzismo anche lì, abbiamo parlato con tantissimi siriani che dicono in Turchia ci trattano male, sono razzisti, non vogliono averci perché comunque i turchi tecnicamente non sono arabi, perciò c'è una differenza, perciò anche lì ci sono tensioni e che lì non avevano scelta, cioè noi ci lamentiamo del Mediterraneo, ma in un certo senso il Mediterraneo per noi è come la manica in Inghilterra, ci tra virgolette protegge. Se sei in Libano cosa fai? Quando c'è la frontiera, cosa fai? Lì lasci lì a morire? Posso aggiungere solo una cosa rapidissima, io all'inizio quando ho fatto un quadro un po' disperante diciamo delle curve di ascolto dei reportage esteri, in realtà vorrei anche un po' correggere il tiro, nel senso che si vede che inizia a cambiare qualcosa, solo che è molto faticoso, per esempio noi abbiamo notato che quando parliamo della guerra, dell'ISIS, di quello che succede in Siria e in Iraq, abbiamo una crescita notevole del pubblico giovane, dei ragazzi, dei giovani. Ora i giovani, parlo di ragazzi diciamo tra i 18 e i 35 anni, guardano pochissimo la televisione generalista, per cui in relazione, il rapporto all'audience complessiva sono sempre abbastanza pochi, ma crescono moltissimo. In compenso noi abbiamo una fortissima risposta su questi temi sui social, cioè tantissime persone vanno a rivedere le clip, i video, magari non il dibattito, non il talk, ma i video sulla guerra, sui profughi, linkandosi su Twitter, andando a rivedere su Facebook, riguardandoli su YouTube, quindi c'è una fruizione differita di questi filmati molto, molto massiccia e sicuramente di un pubblico più giovane, che poi è il pubblico che frequenta di più i social network. Quindi io vedo che piano piano il nostro sforzo di raccontare quello che sta accadendo sta facendo breccia, appunto, soprattutto il pubblico giovanile. Il pubblico giovane, questo secondo me è un dato molto confortante. Ok, allora, rapidissimamente... Ho una piccola domanda per te, Corrado, perché ovviamente nei talk show italiano si nota questo dibattito a volte un po' troppo infuocato, a volte quasi estremista. Secondo te, soprattutto quando dici che i giovani poi in effetti vogliono i clip e non necessariamente il dibattito, secondo te è possibile in Italia cambiare questo tipo di dibattito? Perciò non magari avere sempre il talk, uno da una parte, uno dall'altra, ma fare più interviste approfondite, cambiare un po' il format in quel maniera. Prima che Corrado risponde, siccome abbiamo due minuti e mezzo, se facciamo presto c'è una ragazza che dalla faccia dei scendi riusciamo a farle fare una domanda. Rispondo in un minuto e diamo un minuto alla ragazza per chiudere. Il talk sta già cambiando, ci stiamo indirizzando di più verso interviste singole che permettono magari di approfondire. Lo scontro politico, diciamo, è più ridotto, devo dire anche per mancanza di protagonisti all'altezza, perché io non ho niente contro lo scontro, il confronto anche duro politico del talk, è il sale della democrazia, il problema è che i protagonisti politici in Italia non sono di grande qualità attualmente, quindi il dibattito ne risente, le interviste spesso ti permettono di avere uno squarcio in più, un approfondimento in più, quindi stiamo provando ad andare un po' in quella direzione, senza demonizzare il talk, che secondo me comunque è interessante, però i protagonisti politici sono quelli che sono. Buon pomeriggio, Anselmi dall'Indro.it, noi ci stiamo chiedendo spesso in redazione e soprattutto confrontandoci quando guardiamo dei programmi di approfondimento politico, quanto gli stessi politici stiano giocando in questo caso sulla componente religiosa, mi spiego meglio, quanto stiano cercando di influenzare l'arrivo di questi profughi basandosi appunto sulla differenza tra Islam e cristianesimo e calcando molto la mano, facendoli apparire come un pericolo proprio per le etnie e le estrazioni religiose. Prima di passare a loro, io mi occupo di questa cosa da tanti anni, certamente è vero, c'è questa componente, io però credo che siano tante cose insieme, cioè l'Europa viene da una stagnazione economica, da una crisi che è qualcosa di cui noi non avevamo conoscenza, cioè nessuna delle generazioni giovani. Ed è chiaro che marcare le differenze e ritornare quasi in maniera difensiva sull'identità che può essere nazionale, religiosa anche, è tipico delle crisi di questo genere ed è quello che in parte sta avvenendo, quindi questo non va dimenticato perché questa barriera ovviamente aumenta. Certamente c'è il tema dell'Islam, certamente c'è il tema dell'Islam dove per esempio in Europa le giovani generazioni, quando si parla di seconde e di terze generazioni, seconde da noi, terze in Francia e in Gran Bretagna e in altri paesi, si parla di ragazzi che sono cresciuti nel mondo post 11 settembre. Questo può sembrare poco, invece molto, perché da parte nostra è una diffidenza, dall'altra parte è anche l'idea di doversi sempre difendere e giustificare di qualcosa. Quindi certamente questo contesto culturale non ha aiutato, economico non ha aiutato e il risultato è poi quello in cui stiamo vivendo. Se volete rispondere rapidamente e poi andrà a chiudere. No, io semplicemente l'idea appunto di buttarla sullo scontro di civiltà la trovo una scorciatoia insopportabile. In Italia purtroppo ancora oggi una parte importante del pubblico televisivo non conosce la differenza tra sunniti e sciti, una differenza fondamentale, ancora secondo me il nostro dovere è cercare di far passare un'informazione fondamentale che in questo momento non c'è una guerra all'Islam contro di noi ma c'è una guerra in seno all'Islam, al mondo islamico, una guerra diciamo per un controllo di un territorio molto vasto e una guerra che contrappone fondamentalmente parti diverse del mondo musulmano. Le prime vittime di questa guerra sono i musulmani, far capire questo secondo me è molto importante ed è molto civile. Ad Al-Gesiria credo che negli ultimi anni avrò fatto letteralmente centinaia di interviste su Siria, terrorismo, anche immigrazione. Guarda, forse il 5% toccano sulla religione, cioè proprio la religione in sé, non sunniti sciiti, differenze etiche, la religione. Ed era interessante, non so chi c'era qui un paio di ore fa, abbiamo sentito il talk di Perugia di Iad al-Baghdadi che è un attivista della primavera araba molto molto seguito in Medio Oriente, veramente un ponte quello che potrebbe essere considerato moderato nell'Occidente e lui in 25 minuti, glielo ho fatto notare dopo, non ha menzionato religione perché sono proprio quasi due narrative diverse in Medio Oriente e in Occidente. Noi ci siamo molto fissati perché vediamo quel mondo tramite quelle lenti. Ora ti dico anche un'altra cosa, una volta parlavo con un esponente di Hamas, ovviamente non qui perché qui è illegale, parlavo a Gaza dove loro controllano il territorio e parlando di varie cose lui mi ha detto, sai Barbara, alla fine tutte queste cose che sia Hamas, che sia Ise, sono politiche, ma niente radicalizza meglio della religione. Niente convince un diciottenne a farsi saltare in aria, come dire tu sei dalla parte del giusto, tu stai facendo qualcosa di buono, qualcosa di importante, soprattutto se sono ragazzi che invece sentono che la loro vita è sprecata. È una domanda molto complessa, però questo è un punto di vista che ho ottenuto in dieci anni dal Giosino. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti per questa interessantissima conversazione.